Ciao, benvenuti su Cartesia! Oggi vi propongo una ricetta facilissima, velocissima, ma soprattutto buonissima. Una pizza in teglia fatta in casa, morbida e sofficissima, con poche ore di lievitazione. Credetemi, questa pizza è davvero buonissima, provatela anche voi. Se provate questa ricetta, lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Guardate quanto è bella! Vi lascio al video tutorial. Per realizzare questa ricetta utilizzo 5 grammi di lievito secco, 50 ml di acqua naturale a temperatura ambiente o tiepida, non calda, mi raccomando, un cucchiaino di zucchero bianco. Lavorate benissimo con il cucchiaino, quindi dovete sciogliere benissimo il vostro lievito. Fatto questo, prendete una ciotola e versate 400 ml di acqua a temperatura ambiente, 300 g di farina 00 di grano tenero e 200 g di farina di semola rimacinata di grano duro. Bene, amalgamate il tutto con un cucchiaio, versate il vostro lievito. Continuate ad amalgamare bene il tutto. Bene, adesso verso un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Incorporate l'olio extravergine di oliva e adesso dovete versare un cucchiaino di sale. Quindi io prendo il mio cucchiaino di sale, lo metto sulla mano destra e lo distribuisco il sale da una parte e quindi giro il mio impasto e poi lo distribuisco anche dall'altra parte. Quindi distribuisco il sale in modo omogeneo. Impastate un poco con le mani, giusto il tempo di amalgamare il vostro panetto. Coprite la vostra ciotola con un canovaccio, mettete sopra un piatto per sigillare bene e fate riposare per 20 minuti. Dopo 20 minuti, spianatoia e un po' di farina, quindi una base di farina e poi mettiamo il nostro panetto nella spianatoia e dobbiamo realizzare delle pieghe. Una volta che avete realizzato delle pieghe, rotolate così il vostro panetto per prendere un po' di farina, non deve essere eccessiva. Poi mettiamo una base di farina sulla spianatoia dove andiamo a poggiare il nostro panetto e lo facciamo riposare per altri 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti, lavoriamo il nostro panetto in questo modo. Inizialmente dobbiamo creare delle pieghe e poi dobbiamo proprio rotolare il nostro panetto come faccio in video, in questo modo. Quindi lo dobbiamo proprio rotolare. Guardate, così, giro il mio panetto e poi lo vado a rotolare. Questo renderà la vostra pizza morbidissima e sofficissima. Quindi continuo ad arrotolare il mio panetto. e poi metto una base di farina perché, mi raccomando, si lascia riposare sempre con una base di farina sul piano di lavoro, se no vi appiccica sul piano di lavoro, mi raccomando. Quindi metto una base di farina, il panetto, e lo faccio riposare nuovamente per 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti andiamo a lavorare nuovamente il nostro panetto con movimenti semplici, quindi pieghiamo e rotoliamo, pieghiamo e rotoliamo. Quindi dovete eseguire questi movimenti davvero facili, delicati, che renderanno il vostro panetto morbidissimo, per una pizza sofficissima. Quindi realizzate questi movimenti. Una volta fatto questo, rotolate bene il vostro panetto nella farina, quindi potete prendere tutta la farina che si trova nel piano di lavoro, se lo volete bene infarinare. Mi raccomando, non deve essere eccessiva la farina, quindi questo è fondamentale. Non vi devono appiccicare le mani, questo sì, ma non deve essere eccessiva. Quindi ho preso tutta la farina e pieno nel lavoro, ho infarinato bene il mio panetto, adesso prendo una ciotola, verso nella mia ciotola un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e vado a spennellare l'olio in tutta la ciotola, quindi in tutti, dalla base ai bordi, quindi deve essere ben oliata. Metto il mio panetto all'interno della ciotola e quindi lo vado, diciamo, a rotolare, a oliare bene, poi lo giro dall'altro lato e lo sistemo sul fondo della mia ciotola. Comprite la vostra ciotola con la pellicola, mettiamo anche sopra un canovaccio e facciamo riposare dentro il forno, questa volta. Forno spento, mi raccomando, però con luce accesa, questo è fondamentale. La luce deve essere accesa, ovviamente il forno è spento. Lasciamo riposare per tre ore. Quindi, trascorso il tempo necessario, infarinate bene il vostro piano di lavoro e versate l'impasto. Guardate com'è morbido, soffice, è un impasto davvero bellissimo, morbidissimo. Infarinate bene il vostro impasto, sempre senza esagerare, questo è fondamentale. L'importante è che non vi appiccicino le dita. Lo ripeterò tante volte, perché se infarinate tantissimo, rovinate la vostra pizza. Quindi, lavoriamo questo impasto sofficissimo. Potete rotolare e creare delle pieghe, come faccio io, guardate. Io vado a rotolare e creo il mio panetto. Bene, sempre base di farina, metto il mio impasto sopra la farina. Quindi, metto nuovamente la ciotola e faccio riposare per circa 30 minuti. Nel frattempo mi porto avanti il lavoro, preparo la base della mia pizza, passata di pomodoro, un cucchiaino di sale, pepe nero macinato, origano, un filo d'olio extravergine d'oliva. E vado ad amalgamare bene il tutto. La passata di pomodoro la dovete personalizzare. Se vi piace più dolce, aggiungete lo zucchero, fate un po' voi. E poi ho tagliato a cubetti formaggio di pasta filata. Potete utilizzare anche la mozzarella, la pizza, la dovete personalizzare voi. Bene, sono trascorsi 30 minuti. Riprendo il mio impasto e lo vado a lavorare in questo modo, come vedete qui in video. Sempre vado a rotolare e piegare il mio impasto. Metto una base di farina sul piano di lavoro e vado a lavorare e continuo a lavorare il mio impasto. Quindi quando lo sentite appiccicoso, mi raccomando, mettete la farina. Lo dovete lavorare bene con le mani, non deve appiccicare. Quindi vado a rotolare, piegare, rotolare e piegare nuovamente il mio impasto. Dopo aver seguito sempre questa operazione ormai ripetuta mille volte, mettiamo sempre una base di farina, il nostro impasto al centro della spianatoia, lo copriamo con la nostra ciotola e lo facciamo riposare per altri 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti, riprendiamo il nostro impasto. Guardate, è sempre più morbido e soffice. Guardate come si lavora benissimo, è sempre più grande, perché ovviamente il nostro impasto cresce. Eseguiamo nuovamente questi movimenti, quindi pieghiamo il nostro impasto, guardate come affondano le dita nell'impasto, perché è davvero morbidissimo. Questa volta mettiamo una base di farina e dobbiamo stendere il nostro impasto. Quindi mi raccomando, bene infarinato il piano di lavoro e stendiamo con le mani il nostro impasto. Con le mani vado ad allargare il mio panetto. In questo modo dovete seguire questi movimenti. Quando vedete che appiccica le dita, l'ho girata dall'altro lato, quindi così si va a infarinare bene il nostro panetto e poi continuiamo ad allargare in questo modo. Vado proprio a stendere anche i bordi con le mani, a massaggiare il mio impasto in un certo senso, perché è un impasto, come avete visto, delicato. Quindi eseguo questi movimenti e poi io do una forma rettangolare perché voglio realizzare una pizza in teglia. Voi se volete potete realizzare una pizza tonda, ovviamente. potete creare anche due pizze tonda con questo impasto. Mettiamo un foglio di carta forno sotto la pizza, mi raccomando, e andiamo a sistemare e a regolarizzare bene la nostra pizza, quindi i bordi, andiamo a livellare bene il tutto, delicatamente, mi raccomando. Bene, a questo punto metto un canovaccio sopra e faccio lievitare per 40 minuti. Dopo 40 minuti posso mettere la mia passata di pomodoro condita e in forno, con un forno preriscaldato a 250 gradi, mi raccomando, mettete la vostra teglia nel piano più basso del vostro forno. Io ho messo anche i pomodorini e olive, a 250 gradi per 10 minuti. Dopo 10 minuti metto il formaggio, un filo d'olio e origano e in forno nel piano di mezzo, quindi nel mio forno, per 5 minuti. Quindi la cottura totale è di 15 minuti, 10 minuti sul piano più basso e 5 minuti sul piano di mezzo. Et voilà! La nostra pizza soffice, morbida, ma soprattutto buonissima, è pronta. Credetemi, è una vera e propria delizia. Io spero che questo video vi sia utile, mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime videoricette super golose e tantissime altre videoricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video. E se volete, potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartesia. Guardate che bell'impasto, guardate! Soffice, morbida e ben alveolata. Ragazzi, provate questa ricetta. Mi raccomando, non perdetevi questa delizia. Seguitemi su Facebook o su Instagram come Ricette Golose di Cartesia. Lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Vi mando un bacione alla prossima. Ciao!